salve a tutti i guys buon giovedì 23 marzo da mickey crow corrido allenato buona giornata saluto iscritti moderatori il mio gruppo whatsapp c'è il trattino basso club e ovviamente il mio team di forte cn una buona giornata tutti buongiorno andiamo subito a vedere lo shop di forn di oggi mi raccomando lasciate like e ovviamente supportatevi codici creatore mickey crow tutto attaccato mk y cro con le vostre sciopate su forno in rocket league o su qualsiasi altro gioco epic e cominciamo in evidenza il bundle macabra medicina eccolo qua della season 6 6 oggetti 2200 vbac invece che 4.600 vbac con le due skin infestazione e piaga e poi tutto il resto i dorsi decorativi il piccone bastone dell'araldo molto carino e il deltaplano lanterna ripeto 2200 vbac altrimenti una ognuna delle due skin a 1500 vbac ancora un attimo me li lascio in sovrappensione così guardate e si passa alla seconda fila eccolo qua si comincia con dei ragazzi 800 vbac del set palla in buca skin non comune eccola qua nei due stili classico e generale del green a parte il suo strumento di raccolta pilota ragazzi molto bella questo piccone da 500 vbac che io c'ho e poi si passa a un bundle molto molto bello il bundle geometrica ragazzi season 8 capitolo 2 skin epica ecco la skin molto molto carina nei vari stili reattivo si riattivano e poi nel stile reattivo oro molto molto bello ovviamente il drosso decorativo isolato fluttuante il piccone ascia cubista e la copertura assimilazione cubica reattiva questo questa copertura il tutto ripeto a 2100 vbac altrimenti solo la skin e sul drosso decorativo a 1500 vbac e passiamo poi a swift ragazzi 1200 vbac del set topo di strada skin rara con sudorso decorativo lanterna del ratto a parte il suo strumento di raccolta asce fortunate 500 vbac e la copertura a 300 vbac si passa poi a terra ragazzi del skin rara 1200 vbac della season 2 capitolo 2 nello stile predefinito e alter ego bagliore si e bagliore no abbinata al drosso decorativo zaino puma ripeto 1200 vbac a parte le sue spade destriere ragazzi 800 vbac predefinito e alter ego il deltaplano ricognizione elite da 800 vbac molto carino e bagliore giallo la copertura da 300 vbac si passa poi a valkyrie ragazzi 2000 vbac per questa skin del set araldo della season 5 abbinate su alle sue ali ali della valkyrie ripeto 2000 vbac e il l'altaplano alla gelida 1500 vbac molto molto bello questo ed ecco un bundle punto di fuga ragazzi cinque oggetti di cui due skin quella femminile bianco cercante la maschile sorpasso i due dorsi decorativi accensione e spacca crossia e il deltaplano tormenta di neve 2000 vbac altrimenti ogni skin a 1500 vbac ecco quattro offerte due bundle il capitolo due classici della battaglia quattro oggetti quattro skin ramirez lenovo vanshee generale e rio task force e li temi 2000 vbac e capitolo due recrute reali con le maschili giorni il secondo capitano carlos nector impatto pesante e mansu mercenaio anche se 2000 vbac invece che 3.200 vbac altrimenti ogni skin a 800 vbac c'è poi piccone classico dell'isola a 500 vbac e il deltaplano pilota del nuovo mondo 500 vbac si passa poi alle skin giornaliere quindi le skin del tennis match point ragazzi season 9 skin non comune 800 vbac e poi a vagabond eterna skin rara nei due stili vagabond eterna e spazio profondo abbinata sul dorso decorativo scanner stellare 1200 vbac per questa scheda ed ecco una spada un piccone molto carino ascia angolare della season 6 500 vbac e un paio di emote lava lava 300 vbac ragazzi e non comune no 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 e poi no della season 5 sempre non comune da 200 vbac e incrocio un balletto da 500 vbac molto carino questo season 6 e molto rara e rimane poi tutto il resto quindi l'armadietto di sci-fi grandissimo youtube 2500 vbac ve lo faccio scorrere in maniera veloce perché questo c'è già stato i giorni scorsi è molto bella la sua camminata io ce l'ho grandissimo gg e rimane ovviamente il bundle sambi immortali da 1600 vbac con le due skin il bundle superstiti di raccon city quindi le skin di residente e soprattutto le onda 2100 vbac ed ecco qua i band e le offerte speciali che ci sono ancora a 19 99 15 99 24 99 vi ricordo nuovamente supporto creatore codice creatore amici grotto attaccato ci sono altri modi per supportare il canale con donazioni dal 0 99 centesimi di euro in poi super chat e super stick in alto a destra sul canale youtube invece l'indonazione di paypal e codice affiliazione amazon se acquistate qualsiasi oggetto su amazon ora è tutto vi saluto vi auguro una buona giornata da corrido renato mickey croc che vi vuole un mondo di bene gg ehi guys un saluto particolare a balto